Allora io posso prendere Osiris Ah ragazzi ma è un disastro, io non ho i campioni Ah cos'hai? Amumu, Kartus, Kindred, Masterin, Uno e Warwick Posso? Dammi Amumu, Amumu va bene Amumu è forte È forte Amumu, sì Gioco Amumu va bene, anche AP Siamo nel Cilin Tu puoi prendere, se ti piace, come si chiama Renata? Mi piace tanto Renata contro di loro o è forte? Siamo un po' strani ma ci siamo Non male, non male dai Abbiamo anche quell'accenno di AP che Sì, sì, sì Ma tanto loro guarda non sono tank Non è un problema essere mostri Cioè chi tanka di là Villani tabio, bene e poi basta Ma sì ma comunque non siamo Alla fine abbiamo Cioè ci buttiamo dentro tutti quanti più o meno L'ulti Renata prende spazio Decent, decent Allora dobbiamo uccidere possibilmente Ione E soprattutto V Ione e Biego sono quelli che devono morire Soprattutto Cerchiamo sempre di ammazzare first target Di là nessuno è tank Quindi si squagliano molto facilmente Quindi invece che cercare di uccidere Ashe per forza o cose così First target fa sempre bene Io mi diverto questa partita Beh io tu asho Grazie Tifanz Vabbè vediamo Deve morire sicuramente io ne deve morire pure Viego Consciera oltre il champ Chi lo gioca ma Viego non deve prendere il reset Sei lo shot caller sappio Bene va bene lo farò Lo farò con calma Intanto vediamo un po' come va Questi possono invadere a livello 1 Quindi Comor ganache Potremmo invadere Magari facciamo che Mid tu v'è qua Uno si mette Se volete ward out Se preferite stare più tranquille Tu con gara Puoi andare qui Io ward Perché In caso mettete una ward Se Ok State più sicuri Senza Dover fare cose strane Attuale che Gang potential Hai il 3 Porta Oppure vuoi farti Tutte i campi E arrivi a 4 minuti Vediamo Vediamo Perché non penso che lei Sapia gestirsi molto la wicked Che pusherà spam Quindi se io Me la porto già qua Sì provo Posso gancare se al 3 Che dopo Vedo come la wave Cerco di venire verso di voi bot Mid insomma Top cerchi di giocare safe Più che puoi E vediamo un pochettino Io non so dove sia Dovrebbe fare la messa cosa Ovvero startare top E andare bot Però vediamo che combina Vex penso abbia Abbia guardato qua Sì questa cosa È meglio se cerchiamo di evitarla Se riusciamo ad avere un po' di pressure Non potevo Sì no In generale Ma tra un po' è ok Ovviamente Ok lo sa che sei lì Sì sì Ora mi borsa back La wave Ancora non infuso il biego Stava facendo full Anche lui Io quasi mi devo Declarare Poi possiamo provare O bot Vediamo Anche se lo sanno Che sono bot Le v3 non siamo malvagici E meno loro però Malvagici Io ci posso essere Mi sembra molto Prova a muverti un po' Vediamo Molto avanti Sì sì mi sto muovendo Vabbè oddio no Guarda Morgana dove gioca Vabbè ci prendiamo lo scatto È sufficiente la tua Quando è così Ti puoi anche mettere nel bash E stare fermo Ian Tanto è sufficiente Il fatto che tu sia In fog Top puoi regolare Non ti preoccupare È meglio se regoletti Perché Sì ma Sì ma Manca bot Poi sono loro Potete venire Trovo Opprivo Opprivo ma Venial magari Ottimo lavoro Nooo Ottimo Ottimo Ammazzata anche lei Organo i miei In teoria Ottimo lavoro Peccato No era ottimo Asche flash Ti risalvo Ci hanno messo pure le summoner Noi ci abbiamo Non sono sicuro Non lo usate Non sono sicuro Asche sicuramente Sul flash barrier Morgana Sardegnite Morgana Sardegnite Recollare Stranger tu puoi Recollare se riesci Non ti preoccupare Tanto hai Fatti quella way Seria anche senza Come puoi Va benissimo Good job Io entriamo Ah Rip No basta che eviti questo Ok ok Quando è nata puoi camminare mid Proprio verso la torre mid Se ne abbiamo bisogno Ti chiamiamo Altrimenti poi torni bot Hai visto Zed contro gli obiettivi Conte forte Eh si Metà vita è broken Stanno facendo Ah a post Stanno facendo il drago Io ci andrei da mister Vieni 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 come no Non lo stassi rispettando un bot Se riesci a ingaggiare top Sei faker Bello Bam Distrutto scar Forse non è un po' tommaccio No no non è tommaccio Non è tommaccio Dici dici No no Abbiamo scambiato il drago È però l'obiettivo Quindi è tutto a posto Diego dovrebbe aver ricollato E a breve sarà qua Ai golem Ok quindi li fa red Golem Di nuovo tutto il giro in tu bot Io Puoi fare qualcosa Io sono forte No io l'ho stato Finchè io non l'ho ultima Non facciamo niente Stiamo nel chilling Stiamo Andiamo a invadere la jungle Possibilmente Usciamo prima la bot Ian tu push Ebbene da noi Pusho arrivo Io faccio flash in Sta arrivando Sta arrivando più vex Ma no va benissimo Vinciamone 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 Focus a Malgax Raga mi hanno tenuto 5 secondi 5 5 secondi La ulti di Ash Tirami un po' di hit Andiamocele fuori Una manetta Aiuto raga Close close Se non citava la R Facciamo 3 per 0 Flash barrier Di Ash Allora Morgano ha stato ignite Anche Venuti a void Pushate magari Due wave bot E poi lucre Tu recolli E vieni con me A void Io vado verso Po Allora Ian tu hai ulti app Vai fog Spog a topian Puoi cidere topian Se vuoi Anche senza di me Garen è il silence Anche solo fog Va bene Così lui È più tranquillo Lucre vai pure spot Dopo che pushate Non questa wave La prossima Lucre e recolla Può venire Io non lo vedo Sarai non c'è spuglio Sicuro E' più worth Fare questa cosa O ammazzare direttamente Greta Ammazzare dipende Sicuro al 100% Dipende dalle situazioni In quel momento Potevo Per capire Tu dì Posso uccidere al 100% Uccidi Se fai recolla Perfetto Assicurati magari Prima di recollare Cerca di assicurarti Che lui riesca a schiantare La wave Perché la wave così È non buono Ecco tipo ora dovresti Bene Bene imparare Onestamente Quindi Tanto pare Comunque c'è Morgana qua Non hai il flash bot Fa attenzione Ok R di Ash è up Quindi Vai pure bot Vai pure bot Non è un problema Guarda me Sto arrivando Sto arrivando One shottiamo Guarda me Sto sotto Dove andare da Vinciamo Vinciamo noi Abbiamo Renato No 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 Vieni qua Vieni qua Lascia perdere Vex Sto salendo Morgana Credo ragazzi Ancora C'è il Vex dietro Non fa niente Non fa niente È morto È morto Puoi recollare È bene che tu copra Anche se poi magari Sembra che non fai niente Però se poi fai tiamo 4b3 Stravinciamo Certo ma siamo a Faker Ma chi ci deve battere Sto game Scusate Chi ci deve battere Non ho capito Allora siamo un po' Off tempo per il Drake E più che altro Non ho la ulti Pensi di aver sprecato io Il cooldown Onestamente Era un po' per kill La mia ulti Ma siamo forti Proviamo a contestare lo stesso Ma vediamo un po' Se riesci a buttare una war Dentro il Dragon Pit Adesso Sì adesso faccio Adesso E poi io recoglio E poi Forse Forse No Potremmo provare qui No no Più che altro La prossima volta Dicci che recogli Cioè non devi regolare Perché se Diego Fai finto di andare là E viene qua E io ne tippa Poi è un casino Ok no Perché l'avevo visto andare di là Quindi ho detto Sarà sicuro Sì sì ma è improbabile Però you never know Sì Diego è ancora top Ti vogliono gancare top Poi ho guardato Io ho questa Asha ti sta venendo incontro Salgo anch'io Potete aiutarmi? Non credo lì Colpa mia colpa mia colpa mia Dovevo aspettare la pria Prendi Mercury Sono broken E prendo anche l'abissal No Vengo top Vediamo se riusciamo a fare qualcosa Su sto qui Giocate safe bot Abbiamo free air al Dove sta free air al nostro? Ti hanno spottato Puoi cambiare con Renata? Manca pure Ione Ok Ok a posto Abbiamo preso Io tra 20 secondi All'ulte E poi facciamo double kill bot Magari ok Facciamo che Iampus c'è la mid Io vengo dalla bot Ultiamo Facciamo un casino Vianna Vogliamo uccidere top Sì Ci sono Io non so dove è Diego No no Diego non c'è Sono tutti bot Compresa Vex Mamma mia meno male che sei arrivato Vai muori Non pensavo se ci lasse nessuno No No è vivo Vivo Con Dach Ampino Va bene Va bene It's fine Abbiamo preso la kill top Sì Dove Di altra Che Cercate di Non sprecare Il cooldown Quando vi torna una app adesso Che tra un 2 minuti Facciamo al Drake Magari Come regola generale Non ce le stavate pushando Bot Abbiamo 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 Chiato Gemello E sono arrivati tutti Ok Vabbè Come regola generale Se io sono top Giocate safe Se io sono bot Potete giocare aggro Però si cazzo Vabbè 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 Mi ha preso Questa l'ammazzo Vabbè No camminate 5 minuti Camminate 5 minuti Mettiamo l'era Ci prendiamo le torri Ok Ione è ancora top Vittate la torre Questa qua la cade Andiamo a due Quelle sono morte Vediamo Se si show a Ione Guarda Ione sta flancando Ok no Ione è ancora top Garen top Puoi tippare sulla torre Tipa sulla torre Ione Con Garen Qualcuno dovrebbe andare bot Oh No way Non lo vado a investire Sto stro Vabbè Vabbè Possiamo resettare Resettiamo Resettiamo Avete un sacco i soldi Io prendo un attino queste E poi vengo da voi No a me non serve andare Oh Arrivo da piego Bravissimo Ci abbiamo dietro 4 secondi Lo prendo penso Si Flash No Vabbè Pensavo con la speed del bulbo Magari Ma sono un po' un cringino Che altro Abbiamo perso la meraviglia Sì Pianto non avevi più Un pazzico questo Vabbè Un po' disperato Un po' disperato Ci sta che tanti cose Ma tu non avevi ulti tra l'altro No Però avevo le job knight Ok nice Vabbè possiamo Siamo a breve forzare Baron Penso Benvenuti dal draghetto Guarda Ingaggiamo Ragazzi Ci avviego qui Aiutiamo Abbiamo 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 Renata Vinciamo noi Abbiamo Renata Dov'è? Dietro Dietro ancora Morgana Ulti up Ok Possiamo forzare il Baron Venite Facciamo Baron Non dovrebbe avere ancora Err In teoria Ione No Prende ce l'ha Però vabbè Ci giriamo insieme Va bene Dai recolliamo Usciamo a me No no Recolla Ma non facciamo il tempo Ok È meglio prendere il base Onestamente Il tempo è sempre meglio Tanto la torre è comunque gone Guarda tu sei un po' disallineato A noi Ma ok Lo stesso Giusto perché aveva appena recollato Sì sì Se non hai a spendere Va bene Lo stesso Usciamo a me Andiamo a dragon Loro potrebbero fare tipo trappola qua Quindi non Non entriamo Non entriamo in giungla Andiamo direttamente alla mille Non dovrebbero contestare Sto drake Però mai direi mai Magari sono pazzi Abbiamo ulti di Jean Vero? Guarda me Puoi ultare con Jean Arriva Ione Ok con calma Ulti di Renata Ce l'abbiamo Se potessi farla Sì Ok ho la ulti up in due Ho la ulti up Va benissimo Ci siamo un po' splittati Ma va benissimo lo stesso Già Io so che ho robato la penta Prendere mid Puoi andare Ian bot Jean mid Il dragon mi serve Aiuto Più che altro ragazzi Sapete che cosa ci ha Inchiappettato Subito diciamo Perlomeno Non abbiamo preso subito Ha preso il corpo di Renata E ha dato Eh sì Una bella noia Una bella noia Sta un po' un like Vabbè ok Però me è prima Riccita Possibile muoversi My bad Non ti preoccupare Ricolliamo Andiamo lì Li spacchiamo Aspetta Occhio sono tutti lì Possiamo feitare Con calma E stiamo arrivando Devo stare attento Abbiamo ulti Renata E questo tipo qua Va bene ulti Renata Perché dobbiamo Far riprendere la torre Per noi non è Cioè non va benissimo Quindi in questi casi Ultare tipo per zonarli Dalla torre Va benissimo Però questi cazzi Ovviamente In generale prossima volta Possiamo fare così Certo ma in questo team Non devo nemmeno carriare Sono a mumu 3-2-12 3-2-11 È insane Io prendo un attimo Questo blu E vengo in mid Ceresio e Lucre E occhio Non state avanti Perché tipo La loro play Ora ulti di Ashe E fare un pick Perché tanto sono rovinati Quando è così Se io non ci sono Chi va a fare la praio E se io ci sono Prendiamo la praio Cammina mid Cammina mid Ci sono io Vieni Con me Io sono avanti Puoi ultare Sì sì Non è male Che è vivo Della nostra giungla Stiamo a fare Guarda Diego dietro Arriva Non mori Non mori Salvo io Aspetta Uccidilo tu Io vado verso Ma che cacchio Ho visto Un po' male Ma non moriva Non so che succede Eh no è vero È vero Facciamo il bar E poi dopo andiamo al drago E prendiamo la soul Intanto uno può andare top Tipo gare Un po' tranquillamente andare top Anzi facciamo una cosa Facciamo il bar Da baron E poi i amba top E noi andiamo al drago Tanto non c'erano Anche queste persone Per fare i obiettivi Adore con l'arrobo Ah no non recolare Regoliamo attenzione Dopo il drake Non siamo sempre Espitati Sicuro vuoi che vado top Sì sì Puscia un paio di wave Sì sì Vabbè tranquillo C'è una prima il draghetto E poi dopo Roger Puoi iniziare a regolare Anzi poi Ok Sanno forse vogliamo Ieri a contestare Sono disperati Non lo so Ok recogliamo tutti insieme Potrebbe arrivare Molti di hash Potrebbe arrivare È arrivato ex È arrivato ex È arrivato il mondo È arrivato Guarda che l'avete scrivato Un po' così per regolare Vabbè dai Eravamo in punti Non sus E Ian non fightare No mi è venuto lo schizzo Però ho detto Andiamo a Garen bot Che è il tp Ian top E ne diamo mid E facciamo mettere lì insieme Facciamo 3 1 Siamo spicy Possiamo anche forzare mid Forse Tipo così Esatto Puoi essere il Garen Meno pericoloso Sulla faccia della terra Sei pericolosissimo Non dire così Possiamo andare mid Direttamente ragazzi Dai Potete anche chiedere Se fanno il fs Ian se vuoi andare A matchare i top Puoi andare Un po' toxic Ian puoi andare Sono tipo Tipo con Garen Forse no Too late In realtà possiamo andare Però per sicurezza Dai Se non è l'ultima Garita Limitati a tirare Non so Bam Eh let's go Puoi tippare sulla wave mid Con Garen Così non muovi Abbiamo il tirenata Sì Puoi tirarla tipo qua Per zonarli Quando loro vogliono Dipendere le torri È perfetta Dai vedi Tipo noi ora siamo libri Di Farci i cazzi nostri E di che Beh siamo faker Siamo ragazzi Oh ci sono scar Ci sono scar All'ultimo Molte metà Niente Comunque T'ho rubato La penta Oh bel pick a boom Che ha avuto l'idea Geniale Hai visto? Grazie al mio account Che non ci sono jungler Grazie a tutti